Cammina un po' Quindi tu ti sei presentata e hai detto? Salve E loro? No, quella sera mi è guardata malissimo Ovviamente Tipo cosa ha detto? Così No, sai quella faccia proprio schifata come se fosse stata la persona più arrogante del mondo Tipo quella che vuole fare la anima di Hollywood Invece mi è fatto molto piacere perché C'era questa ragazzina Per strada Invece ti è di qua panca bestia Per cui non c'entrava niente con me, no? Si è fermata e gli fa Sei bellissima Ecco, mi dico Poi va, ti lo tolgo da sole Mettiteli, dove sono? Di tutto, dietro di te No Qual è? Eccola lì, quella che aveva ieri bianca? È là Vediamo come ti sei mossa per le vie In che via era poi? No, via D'Angelo Però così I due anni non c'entrano molto Però mettiamo un 50 e un 60 Perché gli occhiali sono? Un 60 E il vestito? Un 50 E le scarpe? 2000 11 Però è troppo No Fortissimo Poi uno così con i fiori Con questo ricamo Che a me in realtà non è che proprio Non l'avevo mai visto Questo colore qua Perché sono fiori tipici? No, no, no Infatti non l'avevo mai visto Una cosa così Non mi piace un po' davanti No No Grazie.